È il 18 gennaio e per l'Abruzzo da sette anni è il giorno del ricordo delle 29 vittime della tragedia di Rigopiano. Cerimonia di commemorazione questa mattina anche al bellissimo giardino Rigopiano in via Nilo a Montesilvano. Il sindaco Ottavio De Martinis al microfono di Luca Pompei. Sette anni sono passati, il dolore è ancora vivo. Sì, sono passati tanti anni ma come dici bene il dolore è sempre vivo e la tragedia di Rigopiano è una ferita aperta che a mio avviso rimarrà aperta per tantissimi anni ancora, soprattutto per i tanti familiari. Abbiamo voluto nel 2021 dedicare uno spazio verde nella nostra città, questo spazio alle vittime proprio per ricordare tutte loro e anche per lanciare un messaggio. Questo giardino sia da monito per il futuro affinché certe tragedie possano evitarsi e come Presidente della Provincia ho fatto del mio meglio per far sì che soprattutto in quella zona ci sia attenzione particolare. Continuerò a farlo fin quando in carica e come sindaco di Montesilvano continueremo noi ma anche sono certo chi ci succederà a ricordare in questo spazio come detto tutte le vittime. C'era naturalmente anche Giulie Damiani fidanzata di Gabriele ed Angelo, una delle vittime dell'immane tragedia di sette anni fa. Giulie Damiani lavora alla comune di Montesilvano, per lei una giornata a dir poco particolare. Che sensazioni e emozioni? Sicuramente è un onore avere un parco pubblico in ricordo delle vittime di Rigopiano ed è una gioia in un certo senso sapere che comunque anche l'amministrazione comunale, lo stesso sindaco si adoperano ogni anno affinché ci sia ecco in questa giornata particolare il ricordo a queste anime, a questi nostri angeli che purtroppo non ci sono più. E quindi è bello ritrovarsi qui e dedicare un momento di preghiera anche a loro, il ricordo. Il ricordo di Gabriele è sempre vivo, sette anni di dolore? Sì, è un dolore che si trasforma nel tempo col quale poi impari a conviverci, però il ricordo è sempre vivo, cioè la sua presenza e i ricordi sono quelli che non ci abbandonano mai.